Il personaggio che ho portato oggi in questo mio salotto è veramente un personaggio, è veramente un personaggio, Prand Straller, Gian Paolo, Prand Straller, guarda che Alberto ha scritto bene, benissimo, sociologo scrittore o sociologo saggista. Allora mi stavi dicendo, intanto che aspettavamo qui che partisse la sigla, mi stavi facendo delle osservazioni sulle quali io valutavo e dicevo, ma senti che belle cose che dice, poi mi sono venute in mente dopo le tue prerogative di saggista e soprattutto di sociologo. Allora come sociologo comunque tu vanti tra l'altro una carriera di docente non indifferente. Beh sì, è di verità, sono un professore per molti anni all'Università di Bologna di Sociologia Generale, questa è la qualifica accademica. Poi al di là della qualifica accademica ci sono, diciamo così, le caratteristiche personali, che sono quelle di un soggetto che è passato le scienze sociali in un certo momento della vita, perché io sono di base avvocato, ho fatto per molti anni l'avvocato. Veramente sono anche laureato in chimica farmacia. Mamma mia! Se vuoi ti racconto perché, no perché è semplice, mio papà aveva una farmacia qui all'Arcella, molto nota anche eccetera, e naturalmente stava per finire la guerra, la guerra finiva nel 1945, e ovviamente aveva dei problemi dinastici, perché i padri si occupano sempre di quello che faranno i figli, pensano di dare loro, di trasmettere il trono, vero come il re? Anche tu per il tuo ti preoccupi? No, assolutamente no. Io ho cambiato registro completamente. Allora sei un padre che esce dal seminato, per fortuna. Ah, senza dubbio. Per fortuna. Allora a quel punto io ho detto a mio papà, che era una persona validissima, di primissimi ordini, e che è molto noto poi ancora adesso a Padova, senti papà, dico io ti accontento, prendo questa maledetta laurea che tu vuoi che prenda, però dopo ricordati che faccio altre cose. E lui che era un uomo di grande benevolenza verso di me e anche di grande generosità, ha detto va bene. Però è stato un impegno non tanto semplice, perché una laurea in farmacia non era una cosa così ovvia, così semplice. Si facevano otto ore di laboratorio al giorno e una ventina di esami, quindi era difficile. Comunque l'ho fatta. Ha accontentato il papà quindi. Io l'ho accontentato, mi sono laureato, ho detto adesso sei contento? Bene. Adesso faccio un'altra cosa. Anche lì ho avuto un momento di perplessità, di difficoltà, perché io volevo fare, la mia vocazione era letteraria, volevo fare il letterato, lo scrittore, quello che era. Ma in realtà poi le condizioni particolari anche dell'università di allora, i tempi che erano tempi molto difficili, più difficili di quelli odierne sicuramente, mi hanno indotto a fare, scrivermi a legge, e a fare poi l'avvocato. Ho fatto una laurea in legge, poi ho fatto quattro anni circa di praticantato, diciamo così, prima a Genova, poi a Milano e poi ho aperto lo studio a Padova. Come avvocato? Come avvocato. E ho fatto fortuna. Ma le condizioni... E la sociologia allora dove era andata? La sociologia è venuta alcuni anni dopo, verso la fine degli anni 50, all'inizio dei 60, quando ho cominciato a scrivere articoli per comunità e altre riviste, e poi ho fatto un libro per conto mio, che si chiamava I tecnici come classe. a Grazie a tutti.